L'andamento degli immobili di lusso a Monza ha avuto una, diciamo non possiamo descrivere come una flessione, ma c'è stato un momento di riflessione da parte dei clienti. Questo è stato dovuto assolutamente a quello che il governo ci ha detto in materia di riqualificazione e assolutamente di riposizionare gli immobili a una categoria energetica più prestazionale. Per cui c'è stato un attimino di ripensamento da parte dei clienti che giustamente si trovano a prendere un immobile molto spesso in classe G e quindi questo ha influito molto sulle loro decisioni. La richiesta in questo momento di immobili di lusso è scesa circa il 10% proprio per questa necessità, per questa voglia di un immobile più prestazionale che magari sia chiaramente in una zona non così prestigioso di lusso come chiaramente richiedeva.